Arte e golf sui campi dell'Antoniolla, tra i più belli e impegnativi d'Italia, con il percorso di 18 buche, i suoi farway lunghi e in pendenza, i suggestivi ostacoli d'acqua e green, ampi e ondulati. Nella rinomata struttura di San Giovanni del Pantano si è disputata la quarta edizione della Minestrini Master Cup, la gara organizzata dall'artista, da cui prende il nome la Coppa, Fausto Minestrini, abbonato del club, competizione che ha visto circa 70 partecipanti. Ad aggiudicarsi il primo lordo è stato l'Eugubino Fabio Lepri, abbonato di Antognonlla Golf, che ha totalizzato 29 punti stable for the lordi. Dopo due anni di assenza forzata per causa di forza maggiore siamo ancora qui, 2022, con la Minestrini Master Cup, gara che io patricinio, con molta enfasi perché ci tengo moltissimo. Siamo qui con i premi, con tanti amici che sono venuti anche da fuori a giocare. Poi fanno parte anche della giornata alcuni amici artisti, pittori, colleghi che sono venuti con le loro opere e rendono omaggio ad Antognonlla, al golf. L'evento ha visto la partecipazione degli amici dell'Associazione Italiana Disabili Golfisti. In particolare era presente Stefano Palmieri, pluripremiato, campione non vedente di golf e sportivo paralimpico. Grazie al sindaco Minestrini, della Master Cup che ci ha invitato a questa bellissima gara, grazie all'Aide Golf e all'Antognola che ci ha ospitato, ma direi giornata spettacolare, con dei giocatori bellissimi, amici, giocatori di grande evento, grande sport. Sono veramente contento di essere qui stamani a partecipare a questa competizione. Grazie a tutti.